Pioggia leggere e persistenti continuano a mettere a dura prova la vulnerabilità del centro storico di Caltagirone. Il cedimento di un'ampia porzione di cornicione di solaio registrato sin via del Rosario, nel rione San Giorgio, sta minacciando il quieto vivere degli abitanti del luogo. Le precarie condizioni strutturali di una vecchia palazzina a tre piani, disabitata e abbandonata da decenni, richiedono ormai un intervento risolutore da parte dell'amministrazione comunale. Il vice sindaco Sergio Gruttadauri ha effettuato stamani un sopralluogo. Questo crollo crea problemi per la pubblica incolumità, quindi l'ente pubblico deve garantire il cittadino e il cittadino in generale, per cui stiamo avviando tramite anche l'ufficio tecnico e gli uffici predisposti a tale scopo un censimento degli immobili abbandonati dai proprietari affinché facendo le giuste e dovute valutazioni possiamo quantificarne l'importo e, qualora ci fossero le condizioni, chiedere ai proprietari di averli in cessione a titolo gratuito, darli in cessione a titolo gratuito al Comune affinché questi immobili possano fare parte di un piano di recupero del centro storico e il Comune farne l'uso che ne riterrà opportuno. L'aria interessata a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco è stata opportunamente transennata per motivi di sicurezza. I residenti del posto temono che la situazione si complichi ulteriormente e di contro, chiedono la realizzazione degli interventi di demolizione controllata.